Voglio questa Vi do 8 dollari Sul cartellino c'è scritto 12 9 e basta E ti do anche un prezioso consiglio Andata Allora, il consiglio qual è? Questa è originale Giacca da motociclista anni 70 E in pelle di vitello e in perfette condizioni Informati quanto vale Perché ti ho appena fregato Esattamente di cosa ti occupi? Molte persone lo fanno con le case Io lo faccio con gli abiti Boom! Soldi, soldi e palate, o sì? Se non vuoi prenderti il papillomavirus Farei meglio a chiuderle quelle gambe Quello schifo è ovunque Anche sui muri Potrei anche vivere facendo questo per tutta la vita Non dovrò più trovarmi un altro lavoro Quelle scarpe sono ridicole Non so perché ma mi piaci Un paio di Red Bull e un pacco di cerotti Perché ho intenzione di scoparti di brutto La tua è una generazione di viziati falliti Se la domanda resta alta e mantieni basse le spese Sì, alla grado Chi perde la fiducia di eBay È emarginato Merda! Io credo che sarebbe meglio per te Se tornassi a casa Così ti terrei d'occhio Scordatelo Guarda che non mi sono messa a vendere i peluche della mia cameretta Aprirò il mio sito Forse funzionerà Forse no Ma sarà mio Abbiamo venduto tutto Sono tanto felice Oh, caro Sei preso dalla profondità di questa cosa D-K-O Heading on the radio D-K-O Playing on the stereo D-K-O Watch a live video D-K-O D-K-O Dai Ok, d'accordo Continua a sottovalutarmi È proprio ciò che voglio Grazie a tutti